Ciao a tutti, io sono Samuele e oggi siamo in una specie di vlog, però è serio, stavolta è serio, non sono in un posto assurdo perché essendo la mia stanza non è un posto assurdo e volevo parlarvi questa volta di cose seri. Quindi intanto volevo dirvi che quando ricominciano le scuole, cioè all'incirca metà settembre fino a quando si finisce e anche dopo perché io vado in terza e quindi mi tocca studiare molto quest'anno e alla fine, quindi a giugno, quando si finisce la scuola io ho l'esame di terza e non posso caricare molti video, posso caricare video di questo genere perché posso farlo come voglio, cioè quando è come voglio perché con l'Xbox non posso perché se sono in giro l'Xbox non la posso portare appresso e quindi potrebbero uscire quando finisce, tipo non mi assegnano compiti, non succede, posso caricare video quando sono a casa, posso caricare video con gameplay perché dovrebbero uscire giochi nuovi, quindi mi ricompro e carico video su quei giochi nuovi e se non dovessi caricare nell'estate dico, se io non dovessi caricare video, c'ho un video pronto da caricare che l'ho registrato un bel po' di tempo fa, verso giugno ed è lì che vi aspetta, è all'incirca un horror, vabbè, non horror, una scenetta fatta da me, Daniele e Simone in cui si fa una specie di una scenetta horror in cui siamo i tre protagonisti che in due minuti e qualcosa, tre, sono tre poveri sfigati che subiscono cose paurosi, vabbè, non è granché, non sono un attore, io, neanche Daniele e Simone, era per passare tempo in campagna perché eravamo soli, non sappiamo che fare, abbiamo caricato questo video, vabbè, buon ferragosto e ci potremmo rivedere, non lo so, in un prossimo video, ciao a tutti